A un passo dall'aumento dell'IVA, la discussione nel Governo è ripresa da dove era stata lasciata all'indomani dell'abolizione dell'IMU e per il Ministro dell'Economia le cose sono chiare, o si finanzia l'abolizione dell'IMU o si finanzia il blocco dell'aumento dell'IVA. Entrambe le cose non sono possibili. Uno scenario grave che l'ospice GL aveva previsto, come ci ricorda la segretaria regionale Daniela Cappelli. La proposta che avevamo fatto in qualche maniera era di intervenire sull'IMU ancora una volta in maniera equa. Non togliere indistintamente l'IMU a tutti, perché una prima casa di un lavoratore dipendente o di un pensionato che ha lavorato una vita per farsi tre o quattro stanze, non sono la villa a 200 stanze che qualcuno può vantare anche di quelli che sono in Parlamento. Se fosse stato adottato un meccanismo per cui all'interno di questo ragionamento si teneva conto di una franchigia per quanto riguarda la prima casa e poi una progressività anche di questa tassa, chiamiamola così, questo avrebbe potuto contribuire anche in qualche maniera ad accorciare o comunque a ridurre quel clima di incertezza che c'è anche nelle istituzioni locali che ad oggi non ci consentono per esempio nemmeno di chiudere gli accordi sui bilanci preventivi. Perché l'Atares in otto mesi è stata cinque dei differenti, l'Imu prima Sippo, Noppo forse, c'è un problema grande, c'è un problema grande. La prima rata dell'Imu è stata sospesa. Oggi abbiamo due appuntamenti, una è l'IVA e l'altra è la rata dell'Imu di fine anno. Togliere l'Imu ha voluto significare che siccome le entrate dell'Imu l'anno scorso erano state per l'82%, da abitazioni di gente, di persone facoltose, quindi di abitazioni di lusso, è evidente che togliere l'Imu sulla prima casa si sono avvantaggiati soltanto chi aveva redditi alti. Se invece si fosse fatto un'operazione di progressività e di franchigia, questo avrebbe potuto in qualche maniera avvantaggiare le persone meno abbienti e tener conto dei bisogni anche degli enti locali per poter fare quelle politiche sociali che ancora una volta sono necessarie ai cittadini delle fasce più deboli e più in difficoltà.